In un mondo dello shipping che continua a vivere una generale situazione di congestionamento a causa della guerra, dei problemi con il covid nel Far East, con l'aumento alle stelle dei noli marittimi, i porti europei se la cavano meglio di quelli americani e in particolare quelli del nord adriatico che in un periodo di mutamento delle logiche trasportistiche globali stanno erodendo quote di mercato a quelli del nord del continente, servendo in modo sempre più crescente il cuore dell'Europa. Un'analisi che deriva dalla recente pubblicazione dell'Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi di Trieste. I tempi d'attesa fuori dai porti americani sono attualmente elevatissimi, si legge nella newsletter, e tali da far perdere almeno un viaggio anno ad ogni nave, con evidente e costante perdita di nolo a fronte di costi persistenti. Sull'Europa, per contro, i segnali di congestione sono certamente molto più limitati e soprattutto con possibilità di servire gli stessi mercati sia dai porti mediterranei che dal nord Europa, con noli molto simili e costi fra loro competitivi, anzi addirittura vantaggiosi in particolare nel caso dei porti del nord adriatico. Poi uno scenario che l'Agenzia degli Imprenditori Marittimi analizza guardando al futuro. Cosa accadrebbe se uno a caso dei tre consorsi che gestiscono il grosso dei trasporti oceanici mondiali, 2M, Ocean Alliance e The Alliance, anche per le attenzioni sempre più strette della FMC americana, che marca stretto i tre monopolisti, decidesse di alleggerire i servizi sugli Stati Uniti, considerati gli attuali eccessivi tempi morti e di attesa delle navi fuori dai porti americani e di conseguenza di switchare il servizio sull'Europa? Secondo gli operatori marittimi, gli scali del vecchio continente sarebbero in grado di assorbire i carichi e porti come Trieste e Capodistria potrebbero essere in prima linea nel beneficiare della situazione.